Pidipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Eh, c'è un distributore anche qui Eh, andiamo Ricerco un po' ovunque Ricerco ovunque Ci sono altri 30.000 punti per me Facendo qualcosa Eh sì Mannà C'è gente, c'ho gente di fianco Ha messo a seguire, sì Faccio un cazzo là sotto Ok, qua sul pezzo ho trovato un'arma E c'è anche una cassa Ma questo io C'è gente qua davanti Madonna Ah, il distributore è qui Perfetto Eh, se vuoi usalo, usalo Eccolo Mi ha dato tre scudi Ah, vada che c'è gente qua davanti Se vieni qua teniamo un Eccoli, eccoli, stanno sparando C'è uno che sta sparando a un altro Cazzo, ma c'è uno col camion No, mi ha shottato subito Figa, mi ha buttato altrove E' stronzio No, ma non venire Sono venendo qua da me Motto Eh, ma vabbè Ti avevo detto di andare diretto Sparato Vieni da me che c'avevo lo scudo Eh, non c'avevo un cazzo Ecco Eccolo là Ma lo piglio da dire Eh, ma usano le macchine Questi Vabbè, mica scemi Eh, lo cazzo sta qui Ma che culo, sta qui No, c'è uno di loro qua vicino Mi sa Ti man buttato sotto con questo camion qua Merda, non posso Non posso girarmi Tu guarda in giro per me Non posso girarmi Eh, non posso girarmi se non ti giri Prego Ok, perfetto Eh, stanno sparando di qua Vieni qua Ti mollo Almeno la boccetta Vabbè Vi diamo un occhio in giro Vediamo se si devono Mamma come? Qua c'è un mitragliatore Guarda, vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Ma io c'è ancora la pistola di prima Vieni c'è leggera Una mod per veicoli Vieni qua che ci sono le boccette Dove? Sopra? Sì, c'era uno scrigno C'è il fagliaccio Eh, tipo, è uguale Ma c'è ancora la stessa pizzo di prima Sì, sì Sta qua, eh? Mi sa che è sopra Si è fermato Non è solo là Lui ce n'è uno lì Eh, non sa che tu ne è andato Chi spara non muore È giusto? Guarda, oddio, ma quanti cazzo stanno sparando qua? Ok, uno è morto C'è uno qui da me Uno l'ho ammazzato Uno l'ho ammazzato Uno è terra qua da me Uno è morto L'altro sarà dietro come al solito A far binguino Eccolo Vai, si sta curando Preso, l'ho ucciso L'ho ucciso C'è un altro con la macchina Che cazzo ha? Cosa sei scemo? È stupido Morto Maleo, le Tanto O scusate la mitraglietta blu Bello Cos'è? Ok Mitraglietta verde Ok, ricordi Andiamoci Arrivano la tempera Ah no, vabbè, la tempera ci vuole ancora un po' Damose Eh, semmai dove dobbiamo andare Vabbè, vicino c'è un'altra città Poi semmo andare in un'altra città A ripulire Se vuoi Eh, venga Aspetta che qua hanno lasciato qualcosa Prima c'era uno che è morto qua Un po' di munizioni Un po' di oro Un po' di tutto Ok, munizioni su apposto Ok, bene Ah, formula uno Aspetta, aspetta che qua c'è un'altra cosa Fucile a pompa ce ne ho? Ah, il medica Aspetta Anche qui c'è un botte di roba C'è un botte di roba C'è un botte di roba Eh, sì Ehm Una boccia Che ce l'ho già Questo Fucile d'assalto normale Sì, lo Dentro? Vabbè Vabbè Sì, lo è dentro Ok Andiamo a vedere nella prossima città se ci porto Ma in teoria forse la sfida lì della macchinetta tomatica la dovevi fare anche qui Boh Eh, prova a dare un occhio, tanto che guido io Incarichi Devi stare al passo con tutti i precedenti armamenti Infriggi danni con le armi e la tecnologia OI Non so cosa sia Potenziali e le postazioni di potenziamento La tecnologia OI sono quelle alliene Ah, ok Gringe e bende mediche Tira nei compagni Caccia animali selvatici E noi manca uno Distanza percorsa in Pananata Sono 8000 su 10.000 Ok, che qui ci sono dei giocatori Ok 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 Facciamo Ehm Dove scendere? Ehm Faccio anche uno screen Mi so Non so da dove sono però C'è un pozzo qua Pozza grande, vieni qua C'è una pozza grande Lo scudo grande No, prendila tu Io sono al massimo Io sono al massimo Aspetta Eh vabbè l'uomo con me Eh sì sì, prendila tu Prendila tu Ah no, vieni Intanto io ho due di quelle piccoline Ok Oh, lì qualcuno c'è morto Eh sì Ma c'era qualcuno qua davanti C'era qualcuno qua davanti C'era qualcuno qua davanti Prima che si stava sparando Poi boh Scomparso Le pozzette vitte Forse Ortti oddio Ecco Ecco Eccolo Che c***o è ancora sparo Sparano anche qua davanti la taglietta qual è? è sempre rara è rara ci sono dei passi qua da me è sopra c'è anche una pozza grande oh c'è qua sopra chissà che è da solo è sceso, eccolo e non è da solo vai vai a fare il post no 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 lo ammazzo ho visto, ho sentito altri passi non l'ho sentito oh una cassa forte aprila quella lì ti dà almeno 500 lingua tirolo 150 merda, hai dovuto usarla dopo una quella piccola che ho dovuto fare vabbè pazienza oh è qua è qua speso dove? era qua dietro l'ho ammazzato è sciottato c'è una pistola rara che cos'è l'arma raggi chimera è l'arma aliena oh devi fare la sfida ma non penso che sia un'ottima pistola eccolo quanto è che spara spara l'applico a sto coso? ah boh non l'ho mai usata ho visto, ho visto, ho visto è sceso ecco, eccolo oh tu dio oh un altro oh che droga eh vabbè ma è pieno qua ma che è? ancora c'è altra gente ecco, 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 ecco preso, matto, ucciso è preso, matto, ucciso ancora l'ho fatto porco dio l'ho fissato, eh io sono matto, ucciso io sono a 5 eh sì, siamo a 9 in totale oh sei tu? no, non ero io a sparare ecco, ecco, ecco dai in fondo, dai in fondo eh, sto sparando a me stesso, dai è molto bravo davo se, ho tolto di mezzo anche questo minchia, ma quante morte stiamo facendo porca troia ma che, ma si ammazza è divinato buio pure dietro eeeh, oleee ci siamo scelti proprio una bella zona, eh è qua sotto sta costruendo è sopra? no, è qua, è qua da me è morto è morto vabbè, ho capito, ma quanta gente c'è stanno tutti qua stanno andando ma che? eh sì, perché si sta avvicinando alla tempesta minchia, guarda il mio teschio sulla schiena quanto è illuminato adesso pochia 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 è diventato indemoniato pochia 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 ah, qua ci sono delle armi buone allora no, qui da qualche parca c'è uno screen c'è stato leggendario e leggendario come normale eccolo qua eccolo qua niente di più ah, ma sparte, sai l'arma quella di la pistola aliena lì? eh? ha i golpi infiniti ah, ma fa danno almeno? eh, non lo so no, per l'avancione fatta le volte me li hai ammazzati tutti tu ah, ah, ah quindi non so se ecco, ma così sai cosa si prova quando ti fotono le chi e tanto io comunque ce l'ho comunque più bene tu e ce lo sei che poi non ha senso guarda lo zenetto l'ultimo che ho ammazzato guarda lo zenetto questo è un diamante c'è un diamante beh, ma di tanto c'è un diamante diamante con le bombe eh sì, le granate al diamante giocarlo in coppia è decisamente meglio sto gioco vediamo dove si va eh, è vicino sì, è vicino siamo rimasti in 18 oh, oh, c'è qualcuno che ha buttato un... quello segnalatore, il raggio segnalatore arriva da questa parte qua dove sto io l'ho visto proprio un razzetto partire da qua eh, è meglio cominciare a muoversi ecco l'è, l'ho visto, l'ho visto il mio teschio è praticamente un faro in questo momento sta là in fondo eh, a sto giro sono senza cecchino oh, attenzione per la prima volta sono senza cecchino tu sei sceso giù? beh cominci ad avvicinarmi un po' alla zona sentito, sentito uuuuuh poi di scansione, le codice QR ottieni informazioni degli sviluppatori di Battlefield 2042 sul mondo futuristico sì, e poi nei nostri anni l'arsenale, ah, i nostri anni nel 2042 eh, ho capì eh, eh Dave, dove sento? eh, non è negli nostri anni non è negli nostri anni stanno sparando i cosi comunque guarda dire qua eh, ho visto ho visto i colpi eh, ma io sarà me lo scarico ma ho piu' il tempo poi vedi che cazzo? Dave? che è successo? che è successo? che è successo? oh, oddio che cazzo è successo? che è successo? non lo so che è successo tu lo sto a chiedere? eh, sono entrati contro un cesso e c'è un tizio davanti a me occhio che sta arrivando la tempesta dove sei tu eh, ma è ammazzato un tizio ah, ecco quindi siamo a 7 a 6 sì ma è bello perché sono entrato sono entrato dentro al cesso c'è scritto nasconditi ce l'ha scritto, no? mhm nasconditi e poi in questo sono entrato dentro un tubo e sono uscito dall'altra parte eh, c'era il tizio lì poi bellissimo sembrava qualcosa di telefonato proprio cos'era? il game spotting che è il primo eccesso sì, eh, dopo quando poi salvo il video o qualcosa questo eccesso qua sono entrato sono entrato dentro sto bagno chimico all'improvviso c'era qualcosa dentro ma qua c'è il fungo se vuoi almeno così ti ricarichi quel poco che c'hai di seguito ecco, ecco c'è un tizio arrivano è sempre uno ecco, ecco adesso passano di qua eccolo aspetta, aspetta, aspetta sta arrivando il tizio che ho ammazzato io adesso faragli e faragli e faragli preso no è ucciso col cecchino ma almeno male non c'era il cecchino l'ho trovato ammazzato qui prendi un attimo il punto di nuovo guarda, no no guarda il teschio porta troia cioè è un faro mangio ok è diventato un faro questo caso quando diventa buio figami e sgamano ah sì ovviamente sì vediamo un po' che ho ammazzato no ma è quella skin ah appunto era per vedere la skin no cosa fai di qua si passa c'è una porta di qua ahahahahah sai tipo quei film dove uno entra dal finestrino e poi con lui apri la portiera questa cosa uno fa la fatica di scavalcare quell'altro pirla c'è una porta c'è una porta aperta mamma mia siamo rimasti in 5 eh sì siamo 2-2-1 però non so se indica se 5 se sono 5 nemici o siamo rimasti in 5 noi eh siamo in totale siamo noi più altri 2 più un altro 1 ah eh poi non so se indicava noi più altri 3 o noi più altri 5 no no noi più altri 3 praticamente se ti inseriscono munizioni occhio c'è un è là in fondo davanti eccolo là l'ho visto ma da dietro è da solo ho per io beh ma ho visto questo mazzico si è da solo si è da questo e quello costruisce merda di buono sta proprio lì non posso manco prenderlo alla scovista perché è proprio davanti a noi c'è qualcun altro mi sa che c'è qualcun altro con lui si gli sta sparando addosso a lui mi sa che l'hanno ucciso beh no è sempre lì voi mi sa no è un altro un altro allora adesso siamo noi due contro gli altri due eccolo eccolo questo ci piglia no che culo se tenesse fuori la capocetta un attimino ora ci prende è il vestito della pagheta tol quello magari è lo stesso di prima dai fermo un attimo che faccio schifo col cecchino eccolo ci ha peccato taglia ma io io lo sto tirando davanti a me e un altro invece ho tutti le carate stanno sparando uuuu vieni qua vieni qua dove sono io ma io la mangio la faccio è da me è da me ti prendi prendi eh son morto di cazzo di canguri di merda si saltano si capisce saltano distanza percorsa a piedi 57.000 questa è una salve però anche